Respinti alla belle meglio dal portiere giallo-blu Primo tiro dalla bandierina per la Sampa di Gastaldello Contatto in area con Moras Arriva Calvarese e invita tutti alla calma Dicendo di guardare la zona in cui viene calciato il tiro dalla bandierina La palla al limite per Regini con il destro Renan Il gol del 2-0 Assist involontario dell'arbitro E Renan con il destro Stava calciando con il sinistro Renan